Via libera alla Commissione UE al programma operativo 2014-2020 per la Calabria. Il pacchetto complessivo del piano ammonta 2,37 miliardi di euro. Serviranno per il sostegno di oltre 2.000 imprese, che si tradurranno in nuove opportunità lavorative per 10.000 persone e misure preventive sul piano idrogeologico, dove ne beneficeranno in 40.000. 210 milioni di euro saranno investiti nella ricerca e nell'innovazione, 186 nella competitività industriale e 168 nella copertura a banda larga e nel sostegno all'agenda digitale. Il secondo pilastro del programma riguarda infrastrutture e investimenti in materia di sostenibilità ambientale ed energetica. 486 milioni di euro sono stanziati per promuovere risparmi energetici, 324 per la conservazione e la promozione del patrimonio culturale e naturale della Regione, 223 milioni per reti di mobilità sviluppo sostenibile e 93 milioni per la prevenzione dei rischi idrogeologici. 231 milioni di euro saranno investiti invece per creare nuove opportunità di occupazione e formazione. Un programma che consentirà alla Calabria di valorizzare appieno i suoi punti di forza, secondo il commissario UE alle politiche regionali Corina Cretu. Un intervento importante contro la disoccupazione l'ha definito il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, una sfida che chiama in causa tutta la classe dirigente della Regione Calabria.